Bentornati sul canale di non aprite questo blog, io sono il Gons e oggi vi voglio parlare di una piccola polemica che c'è in rete voglio dire la mia su questo argomento perché secondo me il grosso difetto che hanno i social è quello un po' di semplificare gli argomenti e ridurre tutto a un generico sfogo però fatto senza avere la consapevolezza di che cosa si sta parlando Netflix ha comprato i diritti di Letterface per il seguito, per il prossimo film e chiaramente questo comporterà il fatto che il film non andrà in sala sicuramente Netflix influisce in un possibile depotenziamento del mercato del cinema in sala perché chiaramente porta via un titolo intrigante alla sala anche se mi sembra di aver capito che anche se arriva Saw Spiral non è che ci sia la gente che si strappa i capelli per andare al cinema arriva The Conjuring 3 non è che la gente si strappa i capelli per andare al cinema certo The Conjuring è andato meglio di tantissimi altri horror perché è un franchise molto famoso ed era giusto che facesse sicuramente più soldi di Saw o di altri però non mi sembra che il cinema horror sia il cinema che tiene in vita la sala cinematografica piuttosto direi che sono i film come Me Contro Te, i film degli youtuber, questi film qua sono quelli che poi portano orde di persone al cinema quindi quello che voglio dire è che secondo me non bisogna cercare il cattivo sempre e comunque Netflix non è il cattivo Netflix fa quello che conviene a Netflix e a volte quello che conviene a Netflix fa bene al cinema quello che vi posso dire è che ci sono film come A Classico Horror Story che erano in cantiere da diverso tempo e non trovavano nessuno che investisse su questi film perché questi film, soprattutto gli italiani, horror italiani al cinema non fanno soldi perché la gente non li va a vedere quindi A Classico Horror Story è stato prodotto da Colorado Film ma anche da Netflix quindi ci hanno messo i soldi per farlo, per girarlo e esiste solo ed esclusivamente perché Netflix e Colorado Film hanno investito su quest'opera quindi io potrei dire che Netflix ha contribuito a risollevare la credibilità facendo o comunque producendo un buon film horror come A Classico Horror Story di cui trovate tra l'altro la mia recensione sul sito di questo blog hanno contribuito a risollevare la credibilità e l'autorevolezza dei registi horror italiani diciamo che non esiste una verità mi viene da dire che se dobbiamo arrabbiarci non lo facciamo mai 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 con noi stessi cioè lo dobbiamo sempre fare con il cattivo che deve essere sempre lontano e grande ma con per esempio i pirati, quelli che guardano i film in modo illegale che li scaricano, quelli che mettono sui siti pirata con quelli non se la prende nessuno chi guarda i film in modo illegale sì che fa male al cinema ed è un nostro amico, nostro fratello, la nostra fidanzata non io ma il punto è proprio questo è troppo facile prendersela con Netflix tanto Netflix non vi toglierà l'amicizia da Facebook non vi infamerà, non vi dirà un cazzo perché non sa neanche chi cazzo siete invece prendervela con quelli che uccidono veramente il cinema non vi conviene e quindi non ve la prendete con loro oppure perché siete voi stessi che state uccidendo il cinema e preferite dare la colpa a Netflix sappiate che il seguito di non aprite quella porta porterebbe sì un pochino di gente al cinema ma non così tanta da cambiare chissà che cosa o far venire voglia ai distributori italiani ai produttori italiani di investire sul genere cinematografico horror quindi sono assolutamente contrario a demonizzare Netflix da questo punto di vista e non esiste nessun disegno per togliere le persone dalla sala esiste semplicemente il fatto che se Netflix ha bisogno di prodotti buoni e se vede un'opportunità ci investe come cambierà il cinema in sala è tutto da capire ci sono sale che fanno dei prezzi allucinanti ci sono sale che nonostante tu abbia pagato il biglietto non manda fuori i disturbatori che esagerano perché ha paura di perdere dei clienti quindi fondamentalmente preferisce i maleducati a quelli che vanno lì per vedere il film di conseguenza mi viene da dire che non è vero che Netflix uccide il cinema in sala semplicemente ha comprato un film che non ha cambiato le sorti del cinema in sala e del cinema horror in sala altra cosa che viene detta è che non uscirà in un video questa è una falsità i diritti dei film tendenzialmente e solitamente sono temporali cioè io compro i diritti di questo film per un anno e ci faccio quello che voglio cioè ci faccio quello che voglio quello che c'è scritto nel contratto finiti i diritti il film può passare a Prime oppure può andare a Canale 5 oppure può essere stampato in DVD, in VHS in qualsiasi formato vi interesse non è assolutamente vero e ricordatevi che i contratti per i film per la distribuzione dei film sono ognuno fatto a modo suo quindi nessun episodio può essere una regola per il futuro come cambierà il mercato non lo so che futuro avranno i supporti fisici dipende solo da noi non dipende da Netflix perché se noi continuiamo a comprare le edizioni continuiamo a non sfruttare i siti pirata è un mercato che potrebbe evolversi e continuare certo non proliferare perché il futuro non lo fermi il futuro è digitale però puoi creare un mercato autosostenibile che può continuare a vivere che è quello dei collezionisti il film Roma di Cuaron è uscito era un'esclusiva a Netflix è uscito su Netflix e poi è uscito in un video con un'edizione molto curata quindi non è escluso che anche questo seguito di non aprite quella porta possa uscire in un video questo è il mio pensiero scrivetemi pure il vostro nei commenti se il video vi è piaciuto commentate i like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti